Io voglio, ciao! Benvenuti a Pettone, speranali superavani, siamo qui oggi con un nuovo video, oggi ragazzi, live reaction di Napoli Rangers, con il Napoli che probabilmente stasera potrà anche... non lo diciamo, non lo diciamo. Sono qui, non sono da solo, sono con la curva del Napoli, sono veramente onorato, è il mio primo raduno, il mio primo evento che organizzo, infatti voglio anche ringraziare la pizzeria che ci ha permesso di fare questo evento, le vie di Zio Artù, grazie mille, trovate magari le info in descrizione per mangiare qualcosa di buono, non ciò mai sapere. Ragazzi, che dire, io andrei a guardare questa partita e sempre e solo, forza, Napoli! Di Champion! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, Napoli! Dai, Napoli! È iniziata la prima volta di un'esercizio! Movimento di Pulitano, cercato e trovato. Eccolo Pulitano! Dai, ragazzi! Ragazzi, ragazzi! Eccolo! No! Eccolo! È il massimo! Vorrei cambiare gioco, invece, Varzo Terra dà lo bocca. Bravo! No, non ce l'ho fatto! Bravo! Prima cartellino in serato, verai meritato per Ben Davis. Lo abbiamo detto all'inizio. Bravo! Ciao, ciao! Bella, 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 bella! Mario, no! Lo ce l'ho! No! No! Mi c'è! Andiamo! Mi c'è! Mi c'è! Dai! Ah, più c'è! Dai! Dai! C'ho vita, c'ho vita! C'ho avessi! Andiamo! Dai! 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 Mario Rui, si stacca a rastadori! Dai! 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 Pizzolito! Ma questo sei forse! Ma quant'è? Vico Luciano! Ma quanto sei? 15 minuti, 2 al 0 4 partiti Gerard è al comando della seconda divisione Pizzolito! Tombele! Ma dove l'ha buttata il rapporto? 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 E si è stronzata! Mamma mia, un muro! Il muro è il sim! Il muro è il sim! Ma guarda! Ma guarda! Ma il solito è professato! Santarama! Santarama! Vabbè sicuramente l'avrà un allenato! Rispetta anche se ti sa che passa di più! Poi... 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 Bravo! E' un po' di... ...sufficienza! Bravo! 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 Poi... Concorrenza a sinistra! Olivera ha giocato contro la Roma! Ma io la risicaccia mi è che non si sta facendo bene e che non è una riserva a sinistra! Finisce! Finisce così dai 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 dai! Avvio fine primo tempo 2 a 0 stiamo giocando bene dobbiamo chiuderla e... Speriamo subito nel secondo tempo così proprio! Ce l'hanno mangiato comunque! ci vediamo tra voi bravo e taverina era uscire proprio tra i piedi non manca il suo ma fatto bello no no ma non ci credo si fa la palla di polità e la politica meno male no maestro maestro Kent lo serve premia il suo movimento il mazzo maestro come non arriva l'azione che fuori mamma mia ma ora io siamo per eduardo ma non è ma grande erba grande erba questo è la vera è capitato questo maestro questo ma questo non riesce a segnare voglio con le mani voglio con mamma voglio con il gol di lui non è ma che grisci prendi orto ai capitano 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 c'è solo un capitano capitano io e vabbè e vabbè altri tre sarò con te sarò con te e tu non devi bollare abbiamo un sogno nel cuore napoli napoli con la campione napoli con la campione dai 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 mamma mia che partita veramente ci siamo divertiti io mi sono divertito non lo so dai alla prossima e sempre forza napoli non lo so